Un nome maestoso per un cane tanto attraente da sembrare un disegno dei cartoni animati ecco a voi il Cavalier King Charles Pannier è vivace e giocherellone, ha un unico chiodo fisso, eterno amore per il suo padrone è un cane piccolo ma non gracile, il peso si aggira sui 7 chili, 7 chili e mezzo ma può arrivare a 8 chili e mezzo è pieno di vita, graziato e ben proporzionato, gli occhi sono grandi, rotondi e scuri, sono in posizione quasi frontale le orecchie lo caratterizzano, sono lunghe, attaccate alte e con frange abbondanti, la linea dorsale è solida e rettilinea il mantello è serico, la coda frangiata e portata allegramente il movimento è sciolto ed elegante, con buona propulsione posteriore questi teneri e intraprendenti cuccioli hanno circa 3 mesi, sono allegri e spansimi è un piacere stare a guardarli mentre giocano e quando vanno alla scoperta del mondo il Cavalier King Charles Paniel mantiene ancora la sua antica passione per la caccia ai piccoli selvatici ma al giorno d'oggi è semplicemente considerato il cane ideale per compagnia e ora passiamo alla tolettatura il Cavalier King Charles Paniel va lavato spesso ma non richiede tolettature complicate basta una spazzolata di pochi minuti al giorno ed è già in perfetto ordine perennemente il cucciolo dentro ci regala la sua vicinanza costante e il suo affetto assoluto pronto ogni momento a farci nascere un sorriso o a strapparci una carezza